Di smacchiamenti non si parla più, per il resto le metafore si sprecano e vanno dal vicolo cieco di chi non vede chance per il tentativo di Bersani agli spiragli al filo esile ma teso su cui il leader del PD potrebbe camminare fino a raggiungere Palazzo Chigi. L'incontro clou, quello in cui tutto si chiarirà, è quello con Napolitano, probabile già domani, anche se c'è chi affaccia l'ipotesi di uno slittamento a venerdì o addirittura dopo Pasqua. Sarebbe un segnale che, sbarrato il canale con i 5 stelle, con il centrodestra invece si continua a parlare perché un accordo è possibile. Si marcia sul doppio binario lanciato dai democratici, da una parte un governo con personalità di spicco guidato da Bersani che al Senato avrebbe la possibilità di ottenere la fiducia grazie ad escamotage parlamentari che però sottintendono un via libera politico della coalizione guidata da Berlusconi. Sull'altro binario invece marcia la proposta di una convenzione per le riforme istituzionali che coinvolgerebbe tutti, magari guidato da un uomo del centrodestra, avanti per qualche mese presumibilmente fino alle europei della primavera 2014. La Lega in particolare non vuole tornare subito alle urne e sembra più morbida con Bersani. Non a caso la padania se la prende con i governi tecnici ma non fa riferimento al segretario PD. Per il PDL invece è decisiva la partita del Quirinale. Vuole una personalità di aria moderata con un profilo garantista visto che la giustizia è, ancor più in queste settimane, un nervo espostissimo per il Cavaliere. A sinistra per ora si vuole tenere fuori il capitolo delle trattative sul Colle ma è chiaro che senza un ragionamento complessivo non si va da nessuna parte. Prima comunque Bersani dovrà passare da Napolitano che venerdì scorso è stato chiaro. L'incarico è teso a verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare, certo, e non c'è metafora che tenga. Altrimenti Bersani passerà la mano e il capo dello Stato proverà a fare quel che chiamano un governo del Presidente. Certo una nuova soluzione tecnica sembra meno appetibile dopo la bufera sul caso Marò, ma sarà difficile per i democratici dire no a un Premier mandato in Parlamento direttamente da Napolitano. L'unica alternativa è il voto in estate, esito che in molti, moltissimi non vogliono dentro le neo insediate Camere. Marco Difonso, Sky TG24